E verrà come il sole che sorge al mattino Volerà come il vento che vola lontano Canterà, canterà come canta un bambino Correrà come chi vuole dirti è vicino Il Signore è qui Bentornati su Teleromagna con il nostro cuore che parla al cuore alla ricerca di un nuovo modo di vivere la santità La puntata scorsa ci siamo intrattenuti sulla figura di San Francesco d'Assisi molto brevemente, ci torneremo ancora sopra Siamo alla terza domenica di Quaresima che tra l'altro è la domenica, non tutti lo sanno forse nella quale si semina il grano bianco cioè quel grano che è da tenere nascosto al buio per poi portarlo il venerdì santo, dal giovedì santo, insomma dalla sera del giovedì come decorazione del luogo della deposizione della reposizione e della deposizione di Gesù proprio nella celebrazione pasquale per cui se qualcuno vuole, questo è il momento giusto per piantare sotto un po' di terra in un vaso decorato possibilmente quindi che non sia una cosa che stona rispetto agli addobbi che di solito sono sempre molto belli, molto ricchi e anche molto significativi in questa vigilia che molti riescono a fare anche durante tutta la notte poi tutto il venerdì santo e una parte del sabato santo sono dedicati a questo mistero della trasformazione della morte nella risurrezione cioè il grano che è appunto esposto alla luce del sole poi questi fili d'erba che sono bianchi e che ricordano appunto la morte del Signore poi nel giro di tre giorni diventano verdi quindi è come se ci ricordassero proprio il senso della Pasqua e ce l'ha ricordato molto bene anche il Papa nel suo messaggio che ha scritto per questa Quaresima 2020 della quale appunto siamo quasi a metà nella quale appunto nel messaggio ci invita a ricordarci qual è la meta verso la quale siamo diretti il cammino della Quaresima prende senso dal mistero pasquale dal mistero di morte e risurrezione di Gesù è un mistero che come dice il titolo di questo messaggio parla di riconciliazione vi supplico lasciatevi riconciliare con Dio un brano tratto da una lettera di Paolo che ci riporta proprio la necessità di ricordare come il mistero pasquale e la risurrezione di Gesù ci permette di vivere un rapporto con lui che il Papa definisce un dialogo in cui il cuore parla al cuore quando ho letto questo messaggio ho detto mamma mia il Papa nel messaggio della Quaresima fa la pubblicità alla nostra trasmissione alla nostra rubrica su Teleromagna però ho apprezzato tantissimo questo passaggio questo inciso che poi è stato riportato anche da tutti i quotidiani all'inizio della Quaresima per presentare questo messaggio dice il Papa un dialogo da amico ad amico con Gesù con un Gesù vivo, risorto questo è il punto di arrivo del nostro cammino quaresimale riscoprire questo dialogo un dialogo vero cuore a cuore senza ipocrisie senza nascondimenti e dice il Papa questa preghiera fatta in questo modo così come ci diciamo già oramai da tanti mesi e vorremmo proprio che ci fosse questo rapporto di verità di sincerità nella preghiera questa preghiera scava dentro di noi dice il Papa e arriva a scalfire anche la durezza del nostro cuore per convertirlo sempre di più a lui ecco la preghiera come una goccia che scava dentro di noi e dentro i nostri cuori che a volte sono induriti perché? perché non riescono a trovare l'altro cuore col quale parlare a volte è vero questa esperienza è un'esperienza difficile da vivere e proprio mi veniva in mente parlando di San Francesco nella puntata precedente ora direi che non possiamo non parlare di Santa Chiara perché questi due cuori appunto il cuore di Francesco e il cuore di Chiara si sono parlati proprio commentavamo una preghiera una poesia che Francesco ha composto scrivendo alle sorelle Clarisse oggi incontriamo l'espressione del cuore di Santa Chiara che torna su quell'argomento col quale abbiamo letto un testo francescano che è la chiave di lettura dell'altissima povertà quando Santa Chiara parla di povertà e di sobrietà e anche di essenzialità alle sue sorelle in particolare quando scrive ad Agnese di Praga nella sua terza lettera usa queste parole che sono molto interessanti ci dicono veramente qual è la vera spiritualità di Chiara noi carissima non abbiamo un corpo di bronzo né la nostra robustezza è quella del granito anzi siamo piuttosto fragili e inclini a ogni debolezza corporale vedete il sesso debole così dice Chiara no? cioè con questa espressione che è un'espressione di grande verità ma anche di grande dignità se c'è una donna forte sappiamo è Chiara ha avuto anche la grazia di una vita longeva e certamente ha sperimentato tante fatiche è stata provata in tante esperienze non ultima quella dell'assedio dell'esercito dei conquistatori saraceni proprio alle porte di Assisi proprio lì in San Damiano dove appunto ci si avvicinava attraverso quella strada proprio alla città di Assisi e tra le tante prove che Chiara ha affrontato si è dimostrata sempre una donna forte eppure vedete ci dice dice alla alla sua cara Agnese stiamo attenti perché il nostro corpo non è così forte come crediamo dobbiamo stare attenti a questa minaccia a minaccia della nostra fragilità a valutarla e allora dice ti prego ti supplico nel Signore o carissima di moderarti con saggia discrezione nella austerità della quaresima che cos'è la quaresima? spesso si sente parlare no? delle penitenze o comunque dei fioretti o degli impegni o propositi no? per la quaresima io sono solito ricordare come dice anche Santa Chiara stiamo attenti a non fare dei propositi troppo grossi perché non tanto perché non riusciamo a metterli in pratica questo anzi sarebbe una cosa anche auspicabile che così ci consente di vivere un po' la nostra fragilità ma proprio perché se riusciamo a portare a termine dei propositi eroici e titanici in quaresima noi come dice San Benedetto nella sua regola ci esercitiamo nell'orgoglio e questo è il grande peccato per cui magari cercando di evitarne alcuni rischiamo di cadere come proprio una peracotta come si suol dire nelle nelle mani del diavolo per cui dice Santa Chiara l'esperienza della povertà deve essere vissuta con moderazione con discrezione come ci diceva anche San Francesco riguardo alla provvidenza perché se è esagerata o impossibile questa è una strada pericolosa dice Santa Chiara perché la tua vita sia lode al Signore è bene che tu renda il culto spirituale e il tuo sacrificio condito dice Santa Chiara con il sale della prudenza io dico sempre ai miei parrocchiani che quando prendono un impegno per la quaresima bisogna che chiedano il permesso al parroco che sappia vedere se c'è un minimo di verosimiglianza nell'impegno che si prendono e se è fatto con prudenza perché ripeto la vita spirituale non è fatta di gesti di gesti orgogliosi di gesti autoreferenziali la vera spiritualità non si può confondere con l'arroganza con la presupponenza di poter affrontare con serenità sfide appunto impossibili ma occorre l'umiltà l'umiltà che Santa Chiara ci insegna ecco sentite cosa dice sempre in una lettera ad Agnese la prima Chiara sulla povertà O povertà beata a chi ti ama e ti abbraccia procuri ricchezze eterne O povertà santa a quanti ti possiedono e desiderano Dio promette il regno dei cieli e offre in modo infallibile eterna gloria e vita beata O povertà pia te il Signore Gesù Cristo in cui potere erano e sono il cielo e la terra giacché bastò un cenno della sua parola e tutte le cose furono fatte si degnò abbracciare a preferenza di ogni altra cosa disse egli infatti le volpi hanno le loro tane gli uccelli del cielo i nidi ma il figlio dell'uomo il Cristo non ha dove posare il capo e quando lo reclinò sul suo petto fu per rendere l'ultimo respiro se dunque tale e così grande Signore scendendo nel grembo della Vergine volle apparire nel mondo come uomo spreggevole bisognoso e povero affinché gli uomini che erano poverissimi e indigenti affamati per l'eccessiva penuria di nutrimento celeste divenissero in lui ricchi col possesso di reami celesti esultate e godete molto ripiena di enorme gaudio e di spirituale letizia ecco allora qual è il senso di questa povertà che Chiara loda beata santa e pia la chiama è il Natale voi sapete la grande stima e la grande venerazione e devozione di San Francesco per il mistero dell'incarnazione il mistero del Natale il Signore colui che dice Santa Chiara ha creato l'universo bastava che lo dicesse e le cose furono fatte cioè con una semplicità ha dimostrato da sempre la sua onnipotenza eppure proprio il Signore che può fare tutto che può creare e esprimere tutti i suoi desideri e realizzarli come ci dice una certa letteratura orientale eppure il Signore ha voluto prendere la sua dimora in mezzo a noi scegliendo un luogo di grandissima povertà e indigenza quasi innescando quella dinamica che la liturgia ci chiama uno scambio ammirabile uno scambio misterioso come può il Dio onnipotente farsi fragile se non proprio per rendere la fragilità il luogo dell'onnipotenza rendere la povertà il luogo della letizia dice Santa Chiara questo è un grande mistero ma è un mistero che tocca la vita di tutti i giorni noi sappiamo quanto è paradossale l'esperienza della vita io dico sempre chi non ha i problemi se li fa no? cioè è paradossale questo noi scappiamo da ciò che ci fa paura correndo in braccio alle nostre paure è paradossale questo comportamento dell'essere umano no? oppure avete presente altri detti della nostra cultura chi disprezza compra è un modo di dire che esprime proprio la paradossalità del nostro comportamento ma come uno che disprezza qualcosa poi lo compra e in realtà delle volte succede proprio così che quando uno ha una paura poi ci cade dentro vuoi star lontano ma poi è come quei ragazzi a scuola che quando non hanno studiato cercano di nascondersi no? per evitare l'interrogazione e in quel modo lì si fanno notare e spesso il professore chiama proprio te che ti stai nascondendo perché è quasi istintivo cioè c'è una dimensione paradossale nella vita Santa Chiara lo dice in un modo molto forte e molto bello molto spirituale dice scegliendo la povertà Dio porta la ricchezza la sua ricchezza che abita la nostra povertà diventa un tesoro nascosto nel campo come dice il Vangelo cioè noi vediamo il campo ma sotto c'è il tesoro vediamo la fragilità vediamo la nostra debolezza ma proprio sotto questa debolezza ci sta il tesoro dell'umiltà perché se io fossi così capace di vivere penitenze enormi in questo tempo della quaresima poi in realtà perderei perderei il vero tesoro che è la gioia la letizia dice esultate e godete molto ripiena di gaudio e di spirituale letizia cos'è questo gaudio e questa spirituale letizia perché Chiara dice alla sua sorella di rallegrarsi perché vive nell'agiatezza forse perché non le manca nulla perché ha scoperto un tesoro un'economia nuova no proprio perché a immagine del bambinello di Betlemme scegliendo la povertà scopre una ricchezza e di quale ricchezza parliamo di quale gioia parliamo perché molti vedete non riescono a comprendere questo mistero che la fede ci rivela attraverso il mistero della incarnazione è un mistero che certamente nella fede noi possiamo scrutare contemplare e anche gustare beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli ci dice Santa Chiara citando il Vangelo di Matteo cos'è questa beatitudine questa felicità che è nascosta dentro all'involucro del mendicante dell'indigente del povero della povertà della scelta anche di essere liberi liberi e obbedienti nella verità come ci diceva San Francesco in quella sua preghiera e poesia che scriveva le Clarisse ecco Chiara incastona dentro a questa sua preghiera lode all'altissima povertà un riferimento al Vangelo che ci può aiutare a comprendere ci spinge proprio a comprendere meglio il mistero cristiano cosa vuol dire è questo tempo della quaresima perché il tempo della quaresima è collegato all'esodo sapete i 40 anni del popolo nel deserto corrispondono ai 40 giorni della quaresima qualcuno poi si sbaglia a contare perché se voi contate i giorni dal mercoledì delle ceneri fino a Pasqua non sono 40 sono di più allora ecco io sono solito dire che l'approccio spirituale che prediligo è quello che dice che i giorni di domenica in quaresima non contano cioè i fioretti si possono fare nei giorni feriali ma non di domenica perché già un piccolo sinodo della chiesa di Ancira stabiliva che non si può digiunare in domenica perché domenica è un giorno di festa e così dopo tornano i conti perché se togliamo le domeniche dopo ritornano a essere 40 ebbene questi 40 giorni di deserto 40 giorni che ricordano i 40 anni dell'esodo ci parlano di un viaggio di un viaggio nella precarietà nelle tende nomadiche Israele va dall'Egitto alla Palestina in un viaggio tortuosissimo perché giustamente la Palestina era occupata da altri popoli che non è che potessero scomparire così istantaneamente per cui ci vogliono 40 anni perché Israele entri in Palestina e ci entra piano piano gradualmente tra l'altro dalla direzione opposta l'esodo non permette al popolo di entrare da sud come era naturale venendo dall'Egitto ma ci entra da est dalla zona medio orientale attraversando il Giordano ebbene questo cammino dice Santa Chiara è il cammino dell'essere nomadi dell'essere pellegrini citando il Vangelo ancora lei parla delle tane e dei nidi ebbene il figlio dell'uomo trova il suo riposo solo nella croce solo nel dare l'ultimo respiro questo cosa significa che c'è un non possesso come avendo nulla di proprio cosa vuol dire quel nulla di proprio che è tipico della spiritualità francescana non significa non avere nulla no? cioè concretamente non si può campare d'aria però che tutto quello che io possiedo è temporaneo ogni forma di possesso è temporaneo ricordate nella Bibbia c'è quel bel concetto del giubileo no? che la proprietà terriera anche gli immobili tu li possiedi solo per al massimo 50 anni poi tornano di nuovo al loro proprietario originario cioè c'è questo scambio di doni come dicevamo no? amministratori della provvidenza e così Santa Chiara ci esorta a sentirci precari precari e di passaggio in questo mondo questa è un'esperienza che dà gioia Dio si è fatto carne per farci percorrere questo cammino verso le realtà dello spirito verso la vita dello spirito che è gioia grande che è più profonda di quel tesoro nascosto nel campo che tutti noi stiamo cercando in questo tempo di penitenza e di conversione possa la gioia della austerità con prudenza riempire le nostre case buona quaresima a tutti Ave Maria splendore del mattino puro è il tuo sguardo ed umile è il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore puro è il tuo sguardo ed umile è il tuo cuore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore protegga il nostro popolo in cammino la tenerezza del tuo vero amore 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 Grazie a tutti.